Musica Bene, benvenuti nella scuola Holden, una bellissima interazione tra pubblico e privato, un caso di successo speriamo almeno. Musica Questa era una caserma, l'ex caserma Cavalli, che grazie al contributo, alla possibilità offerta dal De Magno e al contributo dell'SRL che gestisce oggi la scuola, ha rigenerato se stessa. E' un lavoro, tra l'altro in tempi velocissimi, poco meno di un anno, un anno solare, siamo riusciti a passare da una condizione iniziale di stato di abbandono a un luogo dove oggi entrano 330 studenti ogni giorno e vengono qui a imparare a diventare narratori, narratori secondo tutti i versanti della narrazione, quindi quella scritta, quella cinematografica, quella televisiva, quella di report. Musica Il fuoco che ha rigenerato se stesso, ma ha anche contribuito a contaminare in qualche maniera, in senso positivo naturalmente, il mondo e il quartiere che è qui fuori. E oggi il fatto che qui dentro entrino appunto 330 più una settantina di dipendenti, quindi circa 400 persone al giorno, permette che anche questa parte di Torino abbia avuto un beneficio da questa operazione. Musica Musica Musica